al mix in one youtube channel ciao a tutti i visitatori di youtube e benvenuti sul nostro canale al mix in one in questo video tutorial vedremo come creare esplosione dinamica effetto testo in photoshop per eseguire il tutorial avete bisogno di un particolare pannello lo potete scaricare dal link presente nella descrizione del video buona visione iscriviti al canale iscriviti al canale so we stand together and because of it our voices are unlimited we represent every corner of the world as we broadcast our message to every country state city and town our supporters have expressed tremendous gratitude for taking the highway and giving them free music again to the world so 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 to the world so 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 a look into their eyes In water, salt, really salt, sorrows In circular cells, they burst in the silence With things I can tell In water, salt, really salt, sorrows In circular cells, they burst in the silence With things I can tell Night of the carnaval, today and quarter, today and quarter Today and quarter, today and quarter Night of the carnaval Night of the carnaval Today and quarter Night of the carnaval night of the carnaval night of the carnaval night of the carnaval Ecco il risultato finale. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al nostro canale e rimani aggiornato.